Giordano Bruno 2020, la visione oltre le catastrofi. Il tema del Maggio dei Monumenti al Via il 2 maggio e che proseguirà fino al 31 a cura dell'assessorato alla cultura e al turismo del Comune di Napoli. L'edizione di quest'anno è stata studiata e organizzata secondo le modalità dettate dall'emergenza Covid-19 sui canali social Facebook e Instagram dell'assessorato. Quest'anno ci sarà una dedica speciale. L'inaugurazione del Maggio dei Monumenti è dedicata ad Aldo Masullo, al professore recentemente scomparso. Noi avremmo voluto salutarlo come il professor Masullo avrebbe militato, con un grande abbraccio della città che è tanto amato, per cui tanto ha militato e di cui tanto ha scritto. Il professor Masullo però era anche uno dei più importanti esperti studiosi al mondo del filosofo nolano di Giordano Bruno. Per cui questa coincidenza ci è sembrata un momento perfetto per salutarlo, chiaramente a distanza, chiaramente attraverso lo strumento anche qui digitale. Lo faremo con i saluti del Ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, con i saluti del Sindaco, con i saluti di uno dei più importanti esperti di Giordano Bruno al mondo che è Nuccio Ordine, professore dell'Università della Calabria. Per l'edizione l'assessorato ha chiamato a raccolta gli artisti partenopei, fornendo anche un contributo a un comparto in grande difficoltà in un momento storico come questo. Dobbiamo innanzitutto fare una premessa. Siamo in una fase particolarmente difficile per le finanze degli enti locali, sapete benissimo, una fase di mancate entrate e quindi in una fase in cui le città stanno vivendo un momento molto difficile. Tuttavia abbiamo deciso di dare un minimo di risposta, chiaramente agli artisti e alle artiste che hanno risposto alla manifestazione di interesse che abbiamo pubblicato sul sito del Comune. Una manifestazione di interesse a cui hanno partecipato circa 40 realtà, qualcuno proponendo degli interventi singoli e qualcun altro usando un'altra possibilità che abbiamo dato, cioè quella di proporre delle mini rassegne da tre appuntamenti. Ognuna di queste performance prevede un gettone di partecipazione e la cosa importante è che siamo riusciti ad accogliere, senza mortificare la qualità, ma siamo riusciti ad accogliere tutte le proposte che ci sono arrivate. Per cui sarà un maggio di grandissima qualità, come sono stati i maggio dei monumenti degli anni precedenti, ma anche molto democratico.